un cavaliere d'altri tempi ho saputo che siete nelle liste di proscrizione un amore immortale una storia antica ed attuale perché non si tenta una ribellione una patria da difendere giuliano mozzato film production in collaborazione con veneto film tratto dalle ultime lettere di jacopo ortis è lieta di presentarvi vera storia di due amanti infelici con lazam abazi vera a tiuskina fiammetta ventura quando diritti e doveri stanno sulla punta di una spada il forte scrive le leggi con il sangue e pretende il sacrificio della virtù io vi scongiuro in nome di teresa partite vera storia di due amanti infelici regia di helen kain